Musica 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 Ciao ragazzi, buongiorno al prossimo video di Mastera Oggi siamo qui su The Very Organized TF con... Ma in stanza no, che viene? Si ma sarà meglio abbassare il volume Oh Ok, così va molto meglio E cominciamo subito Mi starete chiedendo perché sto facendo The Very Organized TF di nuovo Perché c'è l'aggiornamento di Natale Di Natale Sì, scusate, non ho fatto l'aggiornamento di Halloween Però... L'anno prossimo ve lo farò Eh, vabbè, mi scuso Non ho avuto... Quello di Pasqua Quello di Pasqua no Zitto Sto facendo una cosa Ma stai zì Orca, quando mi dai fastidio Ecco Allora, cerchiamo queste cose Questa qui E' quello che ti volevo dire E' uno staudo stavolo sotto Sì, sto un attimo... Sto leggendo Che fastidio, ragazzi Ma no, te lo dimostrò Naruto Mi volta sempre a dirmi quello che devo fare Che sono l'unico che... Che fai video A parte questi giorni Quindi niente, non li faccio Perché sono troppo le cose Bastardo albero Ciao vaso Ciao Il Rail Wine Ah, questo qui Cosa abbiamo? Allora, abbiamo qualcosa da via qui dentro Radio Diamond Ring E quindi qui abbiamo questo, questo, questo Questo, questo Non abbiamo più niente Basta, fine qui Possiamo andare subito di qua A scollegare La radio Va dentro Se mi dai un secondo Che scollego ste cavolo di robe Chiamate pure Pseoli E... Possiamo andare qui Ma io ti voglio dare una mano No, no Muori, bastardo E... Boh, robe Quanto è pieno Cavolo Perchè laggata a random? Vabbè Cos'è questo? Ok, eccomi un secondo Abbiamo un Christmas presents Noi li prendiamo ragazzi Perchè secondo me C'è... Ci danno un peggio Ti danno i punti Ti danno i punti Sì sì, ci aggiungi i punti Con... Con... Cioè già sta suonando le campane Allora... Dobbiamo cercare Certo con questo lagg Cercheremo... Allora... Prima cosa... Le chia... Le chiavi del... Sì... 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 Ma ci andiamo un attimo a guardare Ok... Saliamo Secondo questo sud Quanto odio questo lagg Comunque... Sembra che lagghi più Da solo con la condivisione? Di video? Vabbè forse sì È colpa di quello Infatti io non... Non volevo condividerti Ma... Ti ho condiviso su Facebook No... Beh... Cerchiamo... Porco... Allora... Ce la possiamo fare Qui dentro non c'è Che cosa devi cercare Per favore me lo puoi dire? La... Gave Mi serve la chiame... Per aprire la porta, no? Di subito la... Si trova qui Connetta... Tipo nei cassetti Oh... Un mazzetto di soldi E questa? No... Si può prendere Devo piare pure una cosa di profumo Adesso mi vedo che tavolo creiamo un tasto Forse... Secondo me sta sopra tipo nell'armario Guarda cosa Forse in bagno Stiamo a cercare No... In bagno non c'è mai niente stranamente Eh... Devi guardare anche sull'elemento degli armadi Che di solito stanno anche lì Qua Ah vabbè ragazzi ma già è tornato il deficiente Dipende quale deficiente Quello qua sotto Dipende quale deficiente Il the very organized deficiente Eh ma ci sono due deficiente Tu e lui Tu e lui Ma ecco qua la chiave Gesù santo E' ma quello l'ha già rientrato Non può essere un lui Tanti Mirko Sei scemo Sei scemo Guarda com'è largo Ragazzi non bisogna fare video con... Quindi lo togliamo subito Eh 4 minuti e 13 secondi Bella Every day it Tanto ogni giorno viene un ladro a casa di sto deficiente Ci vengo io in realtà Ok riproviamo senza lag Braccia letta Tanto non è che se mi fai la faccia triste Dietro al computer Io non ti faccio vedere Non ti faccio vedere ugualmente Ma che stai stavo la faccia triste Che ne so pensavo che stai stavi facendo Questo albero malotto le palle Dandamdandamdala Dandamdoro Allora Il che perchiamo il braccia letto come lo chiama Il braccia letto Forse sopravviva ...the braccia letto Is on the table Ah Christmas pisello Laptop Dopo lo andiamo a chiare Sta di sopra il computer Sì, sì, sì Al solito fa i nostri cavetti Belli, belli Questo qua normalmente lascia i soldi in giro per casa Perché è un'intelligenza Guarda, proprio nel cervello È intelligente Lui ha l'abitudine di mettere Le chiavi dell'ufficio In cantica Perché la gente Poi mette Il mattetto di soldi Dietro a tutti quanti i vini Madonna, che cavo Qua Lezzo Comunque Madonna, che sta tutto sopra Comunque io la profumo e botto Le two gates più le trovo Eh, di solito Perché vedo dei video io Di solito Apri gli armadi In alto ci sono delle mentole Devi controllare anche lì Eh Andando qua ci vediamo le headphones di PewDiePie Di PewDiePie Intanto andiamo a guardare Di chi cavolo sarà sta camera? Ma questo qua vive da solo Ah, questa qua è degli ospiti Ehm Sì Qui come al solito Ah, mobile phone È nostro Cosa ci manca? Il bracciale Che sta di sicuro qua No Ah, sì Poi grande Mi sa che abbiamo finito E' a parte la profumo e botte Botto Non so come dirvi Sì, abbiamo capito Da bocce di profumo Da dove cavolo? Ah, 6252 Eh, abbiamo fatto la prova Ero io che so scemo Che non ho visto che era al contrario Comunque ci manca Il profumo e botte Invece di rompere le palle Perché non guardi se c'è il profumo e botte Ah, vero Tu non puoi Ah, te ne hai accorto Perché si sembra rompere le palle Sì, ho visto che c'avevo ragione io Sì, ho visto che c'avevo ragione io Sì, è così Certo Dove sta sta profumo? Sto deficiente e si mette il profumo Ma non l'ho lasciata nessuna parte Questa è in camera matrimoniale con la moglie Non le schiste Vado, lo so Lui è in camera matrimoniale Con la moglie La moglie non ce l'ha nemmeno Ma no, 4 mila stante Oh, senti, non ti posso fai niente Questo qua mette i profumi Nascosti come se uno ti si sa Questo qua ma come ruba il profumo Stare ritornato Poi, un ladro, che si fa di un profumo? Ma me lo chiedi a me? Cioè, io non lo so Cioè, dove trovo? In bagno che non trovi mai niente Cioè, ho cercato un attimo fa Gesù santo, ragazzi, ma i profumi Questo non li mette da nessuna parte Ti sta laggando? Non è entrato Non lo vedo Vabbè, niente Scappiamo, ragazzi Eh, mi dispiace Volevo fare Master TF Ma... Organizza TF Ragazzi, scusate, ma... Oh Vabbè, io taglio, ragazzi Quando ci siamo arrivati Torno, a dopo Bene, ragazzi, rieccoci Ho trovato tutto e... Via Scappiamo Master TF Master TF Master TF Very Organized TF Eh, vabbè, ci ho messo un pochino Comunque abbiamo raggiunto il nostro obiettivo Da Master è tutto Al prossimo video Ciao, ciao Ciao